Il Comitato per azione aria pulita dei Labatt è sceso in campo prelevando il terreno per effettuare analisi nella zona che è stata interessata dall'incendio che domenica 29 dicembre ha distrutto il capannone della Dalena Ecologica, l'azienda barlettana che tratta i rifiuti. Un'azione intrapresa per indagare sui possibili risvolti e rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini. Ci siamo recati in alcune campagne in via Andrea, ha spiegato il Presidente del Comitato per azione aria pulita dei Labatt, Michele Cianci, al fine di effettuare prelevamenti di sostanze biologiche per procedere, per nostro conto, ad analisi finalizzate ad accertare la presenza di diossine e la quantità delle stesse. Gli esami sono stati effettuati spingendosi oltre i 7 chilometri dal luogo esatto dove è avvenuto l'incendio. Le fiamme che hanno avvolto e devastato lo stabilimento della Dalena hanno infatti fatto sprigionare per diverse ore una fitta nube nera che si è propagata nell'aria. Il fumo contenente le diossine si è spinto certamente ben oltre i 3 chilometri indicati nel monitoraggio ARPA-ASL e oltre i confini di Barletta. E pertanto, ha dichiarato Cianci, invitiamo anche il commissario prefettizio del Comune di Andre, Gaetano Tufariello, ad effettuare i necessari controlli nelle zone di sua competenza territoriale, così come ha ben fatto l'amministrazione barlettana per mezzo del sindaco Cosimo Cannito al fine di predisporre eventuali misure opportune necessarie, con riferimento all'ordinanza che vieta la produzione e raccolta di ortaggi nella città della disfida nei terreni circostanti l'azienda. L'invito del presidente del Comitato Operazione Area Pulita della BAT, esteso così al commissario Tufariello, assume il significato di essere uniti in una battaglia comune. Siamo fortemente preoccupati per i possibili danni alla salute dei cittadini e quindi, ha concluso Cianci, deve essere chiaro che per la salute e per l'ambiente non debbano esistere confini o campanilismi di alcun genere.